Amici di SNAI, si conclude al dodicesimo livello questa prima giornata del Main Event alla SNAI Poker Cup qui da campione d'Italia del 660€ appunto il Main Event. Da un piccolo aggiornamento sul Team Pro che è rimasto in gara abbiamo Arnaldo Petino che è ancora dentro, così Matteo Runei Taddia e anche Cristiano Storari. Buone notizie anche per il nostro qualificato online Delibera che è ancora dentro, ha imbussato le chips e domani saranno di nuovo qui con noi per il Day 2. Noi ci sentiamo domani per tutti gli aggiornamenti e rimanete sulla nostra pagina. Ciao!